Comincerà venerdì mattina dalle ore 7 la consegna delle schede elettorali del voto del 10 marzo nelle 1634 sezioni dei 305 comuni abruzzesi. Sono oltre 1.200.000 i potenziali elettori, in maggioranza donne 616.000, mentre gli uomini 592.000. L'iter seguito nella provincia dell'Aquila è indicativo di quanto accadrà nelle prossime ore nel resto del territorio. In giornata le schede stampate da una tipografia delle Marche sono arrivate alla caserma Campo Mizi Pasquali per 700 comuni, tranne che per il capoluogo regionale, che ha visto i propri plichi scaricati direttamente all'attuale autoparco comunale di Via Olissenursia a cui si riferiscono le immagini. Nel pomeriggio 7 camion sono arrivati nella parte più protetta della caserma e i mezzi sono stati caricati con il materiale fino a sera. Partiranno per 7 itinerari diversi, scortati dalle auto delle forze dell'ordine. L'insediamento dei seggi comincerà nella giornata di sabato. Procedure simili a quelle di altre prefetture, dove in alcuni casi i responsabili dei comuni più vicini sono andati a prendere in prima persona le proprie forniture. Delle operazioni logistiche si sono occupate circa 20 persone guidate dal vice prefetto Maria Cristina Di Stefano. Quanto all'Aquila, gli otto dipendenti dell'ufficio elettorale, coordinate dal dirigente Tiziano Amorosi, hanno la responsabilità degli 81 seggi più altre 10 sezioni speciali relative a carcere, ospedale e case di riposo. Il materiale sensibile viene controllato 24 ore su 24 dai vigili urbani fino alla distribuzione che comincerà nella giornata di sabato.